Si tratta di un momento di festa importante, l'avvio di un nuovo filone di attività che va ulteriormente ad arricchire quella che è l'offerta riabilitativa di Villa Rosa, sicuramente il punto un po' focale dell'attività di riabilitazione che si fa in Trentino per i cittadini del Trentino e anche per quelli che vengono e che verranno da fuori. Una collaborazione con dei partner importanti, un forte inserimento nella società civile, nella comunità locale perché la riabilitazione e gli interventi a supporto delle persone con malattie evolutive, neuromuscolari, con disabilità è un'attività che è un'attività sanitaria ma è un'attività anche di reinserimento nelle attività abituali, quotidiane per tutti. Quindi Villa Rosa è davvero, credo, nella posizione ideale con le professionalità ideali per questo. Grazie. Grazie.